La campagna di comunicazione che lancia oggi il Consorzio è una campagna del tutto nuova nella modalità ma anche nei toni e nell'approccio. Quindi è una campagna che tiene presente un profondo mutamento della sensibilità dei consumatori una sensibilità che oggi è cambiata, che è più esigente, che tiene presente anche una ricerca più ottimizzata più esasperata in un certo senso della qualità e di aspetti valoriali quindi quello che si cerca nel prodotto oggi è soprattutto l'origine questo perlomeno è emerso dalle nostre indagini e dalle indagini che abbiamo presentato oggi insieme a Nomisma oltre all'origine è anche un prodotto che sia sostenibile, rispettoso dei principi di salvaguardia dell'ambiente e della persona è un prodotto anche che sia salutare. Ecco, in questo essendo una campagna molto strutturata e importante abbiamo deciso anche di coinvolgere i nostri partner del mondo della distribuzione, della ristorazione coinvolgerli nella misura in cui riterranno di sposare questo approccio e questi principi quindi ci interessa fondamentalmente coinvolgere le catene, le insegne che più che promuovere siano interessate a raccontare e a comunicare quindi quello che c'è dietro la DOP i valori fondanti, non soltanto la solita origine del territorio perché oggi entrambi, il consorzio e la distribuzione raccontando soltanto l'origine o sfruttando la notorietà di una DOP saremmo perdenti il consumatore chiede molto di più e quindi dobbiamo trovare modi più incisivi anche più sofisticati per raccontare e raccontarci. Non solo il mondo della distribuzione sta cambiando, noi siamo sensibili ai nuovi format, ai nuovi formati alla sovrapposizione in realtà tra canali e tra formati siamo anche alla ricerca di partner nuovi in settori diversi abbiamo notato e notiamo quindi una sensibilità anche del consumatore in questo senso sicuramente un aumento dell'incisività del commercio elettronico anche in forme ibride quindi con l'acquisto e la consegna poi presso il ritiro presso il punto vendita ma comunque un aumento questo noi cerchiamo di incentivarlo, di seguire il fenomeno, di incentivarlo e di aggiornarci su queste modalità così come incentiveremo la vendita diretta da parte in particolare dei nostri soci quindi il mondo si evolve e noi dobbiamo evolversi con lui e con i nostri partner anche della distribuzione grazie 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 grazie